Per me, Shou? Oh, due cecchini Aspetta che qui, così Suo la granata, sarebbe? Si Pusha sta rianimando Proprio adesso a me è quello col fucile a pompa Che bello sparare attraverso i cespugli Che schifo di mappa che è, madonna Hm, non c'è nessuno, mi sa Eh, no, no, nessuno proprio Non posso fare un cazzo Oh, muoio, 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 muoio Ricarica, ricarica Madonna Non ha vita Io ho sconnato il secondo colpo Grazie Mi trovo la lanciata? Pfff Non ne vedo uno Sì Sì Sinistra invisibile Ci avrà il pompa sicuro Dove cazzo sono andati gli altri? Ok, io sono dietro Ah, me l'ha attaccata degli inci Ah, me l'ha attaccata degli inci Me l'ha stuccata per bene Io ti vado a rompere il cazzo Io passo da sopra Eh, infatti sono qua Eh, eh Stavolta non mi hai rotto il cazzo, eh Vediamo se trasporto 5 proiettili No, sempre 4, peccato No, avrebbe che 5 Eh, ho messo gli stivali che mi danno più Stanno andando a reanimarlo Madonna, ci ammazzava in due Staccati Eh, in fondo al loro spaw 92 gli ho tolto, vabbè Io sempre 100, di solito Abbiamo un altro aspera polvere? Si è che al tutto ha decisivo Compostatelo Ah, è tuo Pippo No Ah, mi ha ammazzato male, non ha vita Dagli un colpellino, braviss Vieni, vieni, braviss Posso fare di super Vai, vai Eh, a coltellalo però Perché corri e non Non fai la lama direttamente? Ok Eh, va avanti a scatti Sono arrivato al grado 2 di crogiolo Con titano Fantastico Grazie Poi era Orbiter Ma è possibile che non fossi al grado 2? Eh, troppa lui A 306 Che cazzo Sono... Sono fashion poi, eh Cioè Buona Elimita gli avversari e ottieni la vittoria Vediamo come si concorrono Eh, staranno là con i cecchini Cosa vuoi dire? No, sono avanzati con i cecchini Ah, posso Eh, come ti rianima? Rianima adesso Arriva uno, no Affanculo, perché sto cambiando arma? Almeno l'ho preso con le... Con la granata Cioè, mi son tolto super cella per mettere il cecchino da 3 cm Sì, è una cosa intelligente Un avanzato, uno esterno. Che cazzo Chi l'ha visto? Arriva Sììhihihi Tre colpi da distanza assurda E lì Rianima rianima intanto l'unico io sono fuori quindi no 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 adesso devi rimanere lì ho evitato il cecchino io no no non andarci e chi è andato e ciao ho capito si passa da sotto manco più munizioni del pompa zio porco ladro infane eh quasi mi fa neggere da me vieni vieni qua hai rianimato dentro eh io ce l'ho leggermente a destra no l'ho preso è qui a destra metà vita bravissima non ci arrivo alle verdi perché sono andato a prendere queste buongiorno Cristina Cristina? si con la k e con la i ciao Cristina quanti assi ti ho fatto? anche a me però non ha vita non ha vita e mi tiene col cecchino ora l'avrà e mi tiene col cecchino raga la fortuna che ha cannato il colpo chiudetelo chiudetelo vabbè io vado da loro eh voi dovete andare dove volete andare no Bob che cazzo lo stai ancora inseguendo ma vieni dalle luci si pronto ho fatto la cura ho fatto la cura ho fatto la cura ho fatto la cura secondo me da sotto tutti e tre mi ha ucciso in tempo arriva la tua squadra è stata eliminata andrà meglio la prossima volta l'hai sprecata la super rebbe? no mi ha ucciso in volo dove sono? giù eh adesso sanno però che io lo so dove tu? si se voglio colpirli così sto fresco dove ho messo là va bene porca puttana ti tengo no? no si 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 su per loro rianima non scappare rianima perché gli sei andato addosso? ero rianimabile? ero rianimabile sì ha sprecato la super usato usato 3-0-3 pari? non sono sicuro è sicuro 3-1 sì ero rianimabile ero rianimabile no è impossibile ha vinto le pesanti quindi non eravamo 3-2 figa no 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 figa non mi fanno pushare devo fare... occhio alla laser dovrebbe essere solo vicino e basta a te scoppiare il laser non si so mai saremmi io cosa so parli? ho uno sotto non so dove sia l'altro vai pushiamo questo sopra che mira dà il cazzo venite qua l'ha rianimato cioè con lì ti faccia la super eh? no l'aveva usata prima nelle round nelle pesanti fate cazzo di super quaver si me l'ha usata contro di me tu gli hai in funzione si quando tu ti sei rianimato ha fatto addosso a me il pugno non ho saputo non l'ho visto vado a riuscire? no 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 aspetta aspetta non ne ho preso uno dove sono? sempre là? guardiamo a terra si allora aspetta un secondo eh no arrivano però si si va cazzo che granata di merda va a fare in culo va tante cazze di granate avete? Bob va a destra tu e se son lì usa la super va bene se la giuda di una mano vedete che la super è un po' la super del cazzo sono lì? brucia brucia si adesso vanno a destra ok da qui? da me all'inizio cazzo super pistolero sparo d'oro nooo che cacchio usi scappa la tua squadra è stata eliminata andrà metterla quando ero usata ma vedi dentro di scelera no ho già detto prima va bene va bene Grazie a tutti.